Vetrina per chi finora ha trovato poco spazio e occasione per sperimentare nuove soluzioni. Con queste prerogative il Foggia si accinge a sfidare il Sorrento stasera allo Zaccheria. Gara valevole per il primo turno di Coppa Italia, sfida secca, chi vince continua l'avventura in caso di parità. Previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Cutini mischia le carte, la Coppa d'altronde offre la possibilità di concedere spazio anche ai fuori lista e in quest'ottica potrebbero trovare posto in formazione il difensore di Modugno e a sorpresa anche il centrocampista Auger. Di certo partirà dal primo minuto Antonio Vacca e potrebbe debutare anche Davide Riccardi. Il difensore messo sotto contratto in fretta e furia in seguito al grave infortunio subito da Marzupio si è presentato proprio nella vigilia della sfida di Coppa col Sorrento. L'anno scorso era a Siena e dopo insomma la brutta parentesi che ormai sapete tutti quello che è successo a Siena sono rimasto svincolato per un paio di mesi e ovviamente ho continuato ad allenarmi da solo a casa mia e poi è arrivata questa opportunità che per me è un modo di rilanciarmi e continuare la mia carriera penso che sia la piazza giusta per continuare la mia carriera insomma come dicevo prima. Piazza migliore adesso non mi viene in mente. Io sono pronto, sono a disposizione, gliel'ho detto al mister. Ovviamente io conosco il mio corpo, so quando è il momento di andare, è il momento di fermarsi. Ho 27 anni quindi io ho detto che sono a disposizione, che sono pronto, quando vuole io ci sono. Allora io nasco come centrale dei due, insomma difesa 4, ho fatto destra-sinistra, penso di aver fatto più centro-sinistra mentre nella difesa 3 ho fatto sia il centrale che il bracetto di destra. In emergenza il bracetto di sinistra ma io essendo di piede destro mi trovo meglio nel bracetto di destra. Poi ovvio a Taranto ho fatto anche il terzino per tante partite però nelle mie caratteristiche penso che io sono un centrale di puro. In realtà è la quarta volta che sono venuto in questo stadio e ogni volta è stata difficile l'avversario. Domenica la valida con la Turris era in panchina e è difficile da spiegare a parole. È una spinta che se portata dalla nostra parte può essere devastante nel senso che fa paura agli avversari tra virgolette. Cioè inconsciamente un po' tremano le gambe agli avversari penso prima di entrare in uno stadio del genere. Ma guarda io da quel che ho percepito è un'occasione per chi magari ha giocato meno per farsi vedere, per dimostrare di essere un giocatore che può tranquillamente giocare tutto l'area anche la domenica. Quindi io vedo come un'opportunità questa anche per me. Cioè nel senso se dovessi giocare è un'opportunità per farmi vedere, per far vedere quanto valgo. E ovviamente l'obiettivo è sempre quello di vincere. non è che non si regala una partita a nessuno neanche di Coppa Italia. Quindi questo è per noi.